Dove siamo arrivati? Davanti al convento di Sant'Aggio dell'Accupolo, il simbolo di Sant'Aggio dell'Accupolo, voluto da padre Maria Alfonso dei Licuori, che è colui che ha composto la novena di Natale, o meglio il testo della novena di Natale. Bravi, mandate pure un augurio, tanti auguri, buone feste a tutti. Grazie. 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 Grazie.